Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale, quest'oggi proveremo Windbound e senza troppi fronzoli andremo subito a giocare per il giocatore che voglia un'esperienza di Windbound completa alla morte conservi solo gli oggetti in slot, oggetti in mano e l'inventario alla morte torni al capitolo 1, difficoltà dei combattimenti standard ah ok abbiamo modalità storia per i giocatori che vogliono concentrare sulla storia di Windbound o sopravvivenza beh inizieremo con la storia oh 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 Grazie a tutti. Ok, siamo entrati nel tutorial, quindi ci dice di muovere il mouse per la telecamera, ok, un po' duretta la telecamera, usd per correre, ok, per muoversi, perfetto. Si può mettere più sensibile il mouse perché sembrerebbe poco sensibile, cioè la telecamera è un po' troppo duretta, forse ci siamo un po'. Ok, shift si corre. Il tutorial si è dimenticato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le isole perdute, capitolo 1. Ok, siamo approdati in quest'isola, non sappiamo niente, andiamo a vedere subito un po' di acqua, un po' di effetti. Ho notato subito una cosa, che il pantalone, cioè i vestiti di lei, ok, lo zoom non esiste, si muovono con il vento. Ok, avrei preferito, ah, prendiamo una pietra, così, le pietre sono abbondanti, molto versate, nota, nel cuore tempestoso dell'oceano levicata dalla carezza del tempo. Ah, nata! Ok, ho letto nota. Il font non è dei migliori, però vediamo un po'. Io spero nel gameplay. Bene, mi sono messo a raccogliere pietre, non so perché, trovo un po' fastidioso, e questo lo devo dire per forza, un po' il movimento di lei. Cioè, devo fare un test, allora, io sto correndo, giro, e poi rigiro lei fa proprio, c'è un attimo di lag, ok, quindi la risposta dei comandi non è perfetta, però per adesso stiamo raccogliendo pietre. Posso raccogliere anche questa? Avrei preferito un zoom di camera un po' diverso, però va bene. Ok, opzioni, scusate ma devo, per forza, ok, cercare di capire, ok, no, forse in questo gioco è meglio non invertire gli assi, mostra controlli testuali, sensibilità, ammira, vibrazione, vibrazione, vabbè. Ah, si può cambiare la difficoltà in corso d'opera, aspetto cacciatore, ancestrale, andiamo a vedere l'ancestrale. Ok, è terribile. No, 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 quest, 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 esatto, vibrazione, no, non c'ho il, il joypad, non gioco col joypad, sto giocando con tastiera e mouse, il joypad, non cresce. Ohi, bellissimo. Quest'erba spessa e fibrosa è sorprendentemente resistente. Intrecciando scopriamo l'importanza della coesione. Va bene, ci dà un aspetto un pochettino così storico, biblico delle cose. Vabbè, intanto saltiamo. Ma cosa dobbiamo fare? Fino adesso non ci ha detto nulla. Va bene, andremo qui. Cos'è? Ah, è stanca, è la stamina. Ok. Saliremo, vediamo se si può arrampicare. Sì, si arrampica, signori. Perfetto. E quello che voglio fare è andare in quell'isola. Vediamo un po'. Ci siamo già incastrati. Via. Ok. Si può andare sott'acqua? No. Non si può andare sott'acqua. Perfetto. Ci facciamo questa bella nuotatina per andare in un'altra isoletta. Però c'è qualcosa qua sotto. È una pietra. Noi c'è... Adoriamo le pietre. Perfetto. Pietra. Manca... Mi manca qualcosa, veramente. Sono un po' disorientato. Non riesco a capire cosa devo fare. Qui c'è qualcosa. L'ho visto? Sento anche un ticchettino. C'è anche un animale lì. Ah, ok. C'ho il coltello. Vieni, 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 vieni. Vieni. Piccolo paffutello bellissimo che ti uccido. Ah, perfetto. Infatti sono le bacche di Koji. Piccoli frutti commestibili da consumare subito dopo la raccolta. Mangiali per recuperare resistenza. Anche se il sole è indifferente, le bacche sul ramo maturano. Comunque. Ok. Allora, fino adesso... Non ho ben capito. Ah, ok. Perfetto. Adesso? Ah, così? No. Ok. Premuto il tasto 1. 2, 3, 1, 2, 3. Seleziono oggetto con le freccette. Non c'è nulla. Perfetto. Abbiamo solo il coltello. I è l'inventario, signori. Poi c'è un costruisci. Costruisci una corda fatta di steli d'erba. Una corda intrecciata ha in sé sia la scotta della nave sia il capestro del patibolo. Va benissimo. Questa è una modesta stecca fatta di fronde intrecciate e molto semplice. Aggiunge 7 slot extra al tuo inventario. Puoi equipaggiare solo una sacca alla volta. Ok. Per farla abbiamo bisogno di corda di steli e fronda di palma. Ok. Un'altra di queste. E adesso abbiamo bisogno della fronda di palma che non sappiamo come si faccia. Naturalmente abbiamo un'altra pagina. Una semplice fionda fatta di steli d'intrecciati. Non sarà l'arma più efficace e più raffinata ma fa il suo dovere. Facciamo la fronda. La fronda. La fronda. Ok. Mi sono incasinato totale. Una semplice fionda fatta di steli d'erba intrecciati. Non sarà l'arma a distanza più raffinata ma fa il suo dovere. Il cacciatore previdente ha sempre un sasso in tasca. Ah quindi più andiamo avanti e più sblocchiamo cose. Vabbè abbiamo la fionda ma credo che non possiamo utilizzarla. Space vediamo. Sì. Ah ci abbiamo uno schiva pure. Ok perfetto. Adesso vorrei provarla. Vabbè. Scava. Mi manca qualcosa. Lo voglio. Prendilo. Ma perché non lo posso uccidere questo qua? Ah ho fatto qualcosa? No. Questo. Testiamo eh. Vabbè. Sembra un po'. Nasce offegata. Questa è la potenza? Non l'ho preso? Ma. Non capisco signori però mi adeguo. la sonda si sta... Ok ci abbiamo la durabilità. Oh I did it. Finally. Ok. Adesso combattiamo. C'è Giuda. Pesante ragazza. Per puntare il nemico. Ah ok. Vabbè. No no. Non ci interessa il puntamento per adesso. Sto notando che ci sono... Due in un calco solo. Il combattimento è pessimo. Si chiama tagliaschiena. Ok. Ho notato che il combattimento signori. Lascia veramente a desiderare. Una piccola quantità di carne cruda, commestibile e placa, fame, anche cruda. Ma l'effetto ristoratore è temporaneo. Divento un bravo cacciatore e un macellaio ancora migliore. Va bene la pelle dell'animale. Poi le ossa. No. Questo volevo le ossa. Perfetto. E poi abbiamo questo animaletto che... No. Non c'è più spazio. Ok. Ci dice che non abbiamo più spazio. Ma possiamo fare così. Ah. Possiamo fare questa. Ci manca una cresta di foracorno. Nel frattempo sapevamo che avevamo delle bacche. Dove sono finite le bacche? Si sono magnate le bacche. Erba spessa, pietra, pelle, pelle, gonciata. Ok. Mangiamo. Che... Sto vomitando praticamente. Ah, perché è cruda. Ma le bacche dove sono finite? Se le mangia subito? Vabbè. Mangiamo anche la carne così prendiamo la piuma. Ok. Perfetto. E abbiamo questo senso di vomito che mi sta facendo veramente vomitare. Ok. Adesso qui ci dovrebbe essere il foracorno. Che l'ho visto io. L'ho visto prima. Cioè, è finito l'effetto vomito oppure c'è ancora? Dov'è il foracorno? Eccolo qua. Ciao, foracorno. No, questo è un pungi schiena. Ok. Niente, è un pungi schiena. Pensavo fosse un foracorno. Invece ci dà semplicemente delle ossa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non è un problema. Questa non si rompe. Questa ci servirà, lo so. E poi, naturalmente, andiamo qui. Quindi c'è il crafting. Quindi c'è il crafting. Un misterioso remo intagliato, anche se antico e in perfette condizioni. A volte lo senti vibrare tra le mani. È come se ospitasse qualcosa. Se fossimo davvero nelle mani del destino non ci sarebbe bisogno di temi. Vabbè, premi I per aprire l'inventario e costruire. Poi usare per accedere alla categoria barca. Sono una canoa o un ponte che costruisci in acqua. Una volta che costruisci questi potrai aggiungere altri componenti. Ok, ci dice di costruire una barca. Perfetto. I. Sarà questo. Canoa. Canoa di steli. Ci servono degli steli. Perfetto. Facciamo uno stelo. E poi andiamo qui. Ci serve un'altra erba espessa, scusate. Si pulisce però quando si rialza. Mi piace quell'animazione lì. Le pietre non ci servono. Vedo del vento. E dobbiamo cercare questi. Eccola qua. Ah, scusa. Eh, per raccogliere. No, il sasso questo. Magari, grazie. Però nel frattempo, prima di andare lì, volevo intanto raccogliere questo e contro... Un albero. Controllare questa zona qua. C'è un sasso. Prendiamo anche questo grano, secondo me. Ok. E c'è un albero. Eh, non si può distruggere l'albero? Peccato. Avrei preferito buttare giù l'albero. Va bene. Saltiamo, saltiamo. Danno da caduta? Sì, danno da caduta. Fa anche male? Sì, lo so. Abbiamo poca vita. Il control si abbassa. C, X, Z. Boh, va bene. Sembra che sia arrivata la notte. E noi costruiamo la nostra prima grande costruzione. Ovvero, la canoa. Ottimo. Spingi. Spingi. No, 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 no. Io volevo salire. Che spingi? Spingi e basta? Signori, sono molto confuso. E ce l'ho. Remo. Ok. Come si fa a salire? Spingi. Spingi. Ah, bisogna andarci sopra. Ok. Perfetto. Ok. Signori, abbiamo una canoa. Ci dirigeremo lì. Dove c'è quell'altro... C'è un'isola lì. Quest'altro tempio. Perché da come ho capito questi tempi ti danno degli oggetti per andare avanti. Ok. Per scendere è. Ok. Ed è un puzzle game. Dobbiamo salire lì sopra. Non sappiamo come fare. Tipo scalata? Vediamo un po'. Allora. Saliamo di qua. Aggrappati. Lo fa in automatico. Si aggrappa in automatico. Quindi non posso decidere io quando si aggrappa. Purtroppo. Questa cosa qua è un po' bruttina. Avrei preferito... Un tasto. Il salto. Vedo che è sempre lo stesso. Ok. Fermali. Fermali. Ferm. Ok. Sali. 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 Non fa male. Vai. Dai, dai. Andiamo qua dalla cornucopia. No. Questa è una conchiglia. Sembrerebbe un Nautilus. Questo guscio splendidamente decorato possiede una forza misteriosa, un'arcana reliquia di un'era passata. Molto si può scoprire della porta. esaminando la chiave. Vabbè, fino adesso non ci dice molto su queste cose qua. È proprio molto... Oì, ho visto una cosa volare. Vabbè. Che cacchio era quella cosa lì? Ah no, è un... Dei gabbiani. Vabbè, erano... Due metri. Cioè, non è che era... Vabbè, abbiamo visto la morte. Tieni premuto è per saltare. Aspetta, vediamocela tutta. Ah, quindi ogni volta che noi moriamo spuntiamo qui in questo vortice strano, scuro, che ci porta in un'altra dimensione per poi rientrare nella dimensione nascosta. e andare. Questa era una supercazza, naturalmente. Ho dovuto riavviare il gioco perché mi sa che era crashato, non so. È rimasto nel limbo del caricamento. Riproviamo a entrare nel vortice. Aspettiamo il caricamento e vediamo un po' se parte. Oh, ci siamo. Non vedo il personaggio, però. Vediamo una cutscene. Ok, rispuntiamo di nuovo nell'isolotto e abbiamo capito che... Ripartiamo da zero? No, abbiamo l'inventario perché siamo in modalità storia. Però... Forse abbiamo perso... Ma siamo in un'altra isola, però. Ho sempre la stessa. Forse abbiamo perso la canoa. Raccogliamo questi oggetti. Che ci servono è quest'altro. Ok, diciamo che... La parte della vita è abbastanza facile morire. Perché c'è il danno alla caduta e fa veramente, veramente male il danno alla caduta. Anche gli animali fanno male. E poi costruiamo la nostra canoa. Che ormai sappiamo come si costruisce. Per salirci sopra basta andare avanti. E lui sale. E poi andiamo a rimare. Perfetto, allora lì ci siamo stati. Me lo ricordo bene. Magari c'è ancora la canoa. La nostra vecchia canoa, ma è semplicemente facile farne un'altra. Quello che faremo è andremo lì. In una prima isola. Ce n'era un'altra grande dall'altra parte. Eccola là. La vedo in lontananza. Ma proviamo lì. C'è un temporale bruttissimo. E c'è qualcosa qui. Esploriamo un po'. Adoro esplorare questi giochi. Sembrerebbe vasto. M mappa? Eh sì. Sembrerebbe... Ah, un cerchio. C'è il vento che... Ah, ci dà il senso del vento. Da dove espira. Perfetto. Ah, ma... Eh no. Il cornucopia però lo dobbiamo andare a prendere. Il coso? Il corno. Ridammi il corno. Abbandoniamo questo per andare a prendere il corno. Eh, eh, signori. Eh, abbiamo preso prima. Non possiamo andare più veloce, vero? No. Vabbè. Godiamoci questo scenario. Eventualmente andiamo in quell'isola più grande. Di sotto c'è qualcosa comunque. Beh, il mondo è bello grande da esplorare. Qui sopra... Dovebbe esserci... Ok, scendiamo. Ho scoperto che salivo dall'altra parte. Ma si sale da qua perché è contrassegnato con le foglie. Eh, lo so che vuoi fare. Oh, 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 però... Purtroppo... Ah. Veramente un po' duretti i comandi con la camera. Avrei preferito un po' qualcosini in meglio. Si può saltare? Grandi. Perfetto. Adesso piano piano, senza cadere, ammazzarci e romperci l'osso del collo. Scendiamo. Ok. L'acqua ti fai male? No. Perfetto. E cerchiamo la nostra canoa che l'ho persa. Ma intanto sento dei rumori, non so cosa siano. Poi ho scoperto che questi ci servono. lì c'è un fumo. Signori, abbiamo trovato la nostra prossima meta. Fumo. Se abbiamo un fumo nell'acqua e ci andiamo subito. Cos'è? Steam. Ok. Adesso naturalmente dobbiamo spingere. Cioè, proprio spingere così non è tanto bello, però... premiamo. Giriamo sul posto... e andiamo, passeremo prima per l'isola naturalmente e poi andiamo lì, dove c'è quella specie di pallone in aria, sembra una palla, non riesco a capire. Proseguiamo. Il nostro viaggio, la nostra avventura. Di solito nelle preview io non sono delle preview, non do mai, non sono delle review. Però devo dire che mi affascina un po' la fase esplorativa. C'è qualcosa che mi attrae nella fase esplorativa e nello scenario. E questo, signori, mille punti. Perché c'è il riff. E quando ci sono questi dettaglietti qui, io li adoro. Perché non è il classico, c'è uno blu. E basta. Qui? Qui ci fanno il culo? Eh sì, e qui ci fanno male. Allora, vediamo un po'. Silenzio. Ma se io faccio così... Questo ci fa male? Secondo me questo è il cornucopia che cercavamo. Come si chiamava, cornucopia? Sì, ci ha beccato. Va bene, noi corriamo e scappiamo. Via, 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 via. Cos'è questa cosa? Misteriosi fermenti di cristallini sparsi nell'arcipelago reagiscono alla presenza dei santuari. Il valore di una moneta dipende da come esse spesa. Ah. C'è anche un legno. Oh, incominciamo a... Ho una paura matta che quello mi segue. Un sottile ramo di legno. Il fondamento di ogni kit di sopravvivenza. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Qui c'è un'altra... Delle frecce di osso. Che non possiamo raccogliere. Questo lo possiamo fare? Sì, ci serve un'accetta. Bene, ci mettiamo qui al riparo. E vediamo cosa possiamo costruire. No, dobbiamo andare qua. Possiamo costruire un fuoco. Ma non volevo costruire questo. Una semplice accetta d'osso. Bastone cuoio. Ok, uno strumento pratico per disseppelire gli oggetti. Che sarebbe una pala. E un martello. Che ci vuole il foracorno. Poi abbiamo... Lancia base. Una lozza arma ricavata da un bastone appuntito. Che la facciamo? Vediamo se riusciamo a... Hai costruito una lancia base. Esatto. Eh, ma ci abbiamo un inventario pieno. Signori, butteremo un po' di queste. Come si fa a buttare? Lascia tutte ste pietre. Grazie. E poi c'è il cuoio. Ce l'abbiamo, scusa. Questo non è il cuoio. No, questa è la pelle. No, due di pietra. Adesso vorrei prendere la mia lancia base. Ed è equiparla. No. Non ce la fa usare? Ok, ce l'abbiamo. Perfetto, ci abbiamo la lancia base. Andiamo a sconfiggere qualche animaletto. Vediamo un po'. Fino adesso mi sta bene che ti stai fermo. Rotola, rotola. Perfetto. Interagiamo e prendiamo le ossa. Perché ho capito che servono. La carne e la pelle. A noi serve il cuoio. Vabbè, la carne non ci interessa. Questo. Ciao. Tu sei giganto. Lui è un foracorno. Lui ci fa malissimo. Ho capito che è il foracorno. Dov'è? Quello lì. Vabbè, noi giocheremo come sappiamo giocare noi. Ci serve il foracorno. Ciao, foracorno. Oh, cociuta, che calciata. Vabbè, alzati però. Molto lento. Ok, gioca di lato. E di punta, sicuramente. Sì, sì, vieni, vieni, vieni. Lancia si sta addiritturando. Ci sta facendo un male cane. Credo che questa tecnica non vada bene. Non ci dobbiamo andare dietro, eh. Ok. Ma se io faccio così? Lui è impazzito. Ok, dobbiamo stare attenti al dietro. Siamo stanchi. Le palme. L'altro foracorno credo che si sia incacchiato pure lui. Ah, non abbiamo pietre. No, 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 vai, vieni, vieni. Vabbè, ma... Cioè... È molto... Molto duro scappare. Ho visto la cicoria. Dobbiamo andare qui dove c'è l'albero. Questa è la parte... La salvezza, praticamente. Ok. Lei è stanchissima. E purtroppo non abbiamo nulla da mangiare. Ma se io faccio così... Ah, attenzione. Siamo saliti sull'albero. Questo mi piace. Ok. Adesso lui farà il suo solito atto. E ci ha preso da dietro. Che lo sapevo io dietro il... Questo vaso rotto, questa cosa. Immaginavo. Perché vedo che si compenetra abbastanza bene. Ho capito che... La lancia non è un buono strumento. Forse è meglio fargli mare con la pionda? Non mi ha preso. Ma non riusciamo neanche a mangiare. Non sappiamo niente. Dobbiamo subito per forza fare una sacca più grande. Fronda di palma. Vabbè. Proviamo a prendere le fronde di palma. Queste? Sì. Allora, facciamo così. Lasciamo questo. Prendiamo la fronda di palma. La corda di steli ce ne serve due. E poi la fronda di palma. Naturalmente non ce le fa raccogliere perché abbiamo l'inventario pieno. Quindi dobbiamo lasciare qualcosa. Vabbè, facciamo così. Non c'è lì. No, non possiamo. Andiamo. Piuma blink. Fronda di palma. Quante ce ne servono? Cinque. Vabbè. Andiamo a raccoglierle. Dobbiamo anche mangiare, ho capito. No. Credo che dovremmo limitarci a uccidere prima le cose semplici. Intanto espandiamo subito la nostra bag. La nostra sacca. Costruisci. Stanno dormendo. Ok. Credo che dovrei mangiare. No. Ma. Bene, signori. Devo dire che è alquanto difficile combattere con gli altri. E da come ho capito è anche un po' survival. Infatti vedevo scendere un po' la stamina perché ha bisogno di mangiare. Il combattimento sembrerebbe da migliorare, però non è male. Tutto sommato a livello esplorativo da quel che abbiamo visto sembrerebbe. E' abbastanza carino. Bene, io direi che la nostra preview finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Spero che abbiate capito un po' di più da questo gioco. E vi ricordo che potete supportare questo canale con un commento, un like o un'iscrizione. Come sempre, siete medici. Alla prossima. Bye bye. Bye. Grazie